Sono arrivati a Roma. Oggi arrivano i bambini e Fede, quindi il look comodo. Benvenuti. Se vi piace il video fatecelo sapere con un like. Chiara Ferragni il giorno prima di arrivare a Roma aveva messo in discussione la sua partenza perché CR ha stato un incidente ferroviario per cui non poteva prendere il treno in orario. Ma poi tutto si è sbloccato ed è partita. Il giorno successivo la raggiunge anche Fede con i piccoli Leone e Vittoria in treno. Forse ne avevano abbastanza degli aerei essendo tornati da poco da Dubai. Vedremo come procederà questa vacanza a Roma.